Bene, direttore Marchetti, l'HTA può essere uno strumento anche in Italia per districarci in questo mondo della sanità sempre più caratterizzato dall'innovazione, dall'introduzione di nuove tecnologie? Ma alla fine l'Health Technology Assessment, altro non è che un supporto di natura scientifica che viene dato al mondo dei decisori, proprio perché il livello di innovazione tecnologica è enorme, è crescente, è incrementale e negli ultimi dieci anni noi abbiamo visto uscire, arrivare sul mercato tante nuove tecnologie e cominciamo a far fatica a capire quali sono quelle che realmente portano dei benefici importanti per i pazienti, quelle che invece hanno dei benefici sì, ma che comparati ad altri bisogni sono meno prioritarie. Il nostro problema è quello che dobbiamo in un servizio sanitario come quello italiano, che è finanziato da fondi pubblici, che deve garantire un diritto alla salute e dove ormai è chiaro che il bisogno della salute è un bisogno esponenziale, che non ha limiti, che cresce a dismisura, mentre così non lo sono le risorse che sono disponibili, è chiaro che bisogna fare delle scelte, delle scelte di priorità, di priorizzazione, cercando di garantire a tutti quello di cui hanno veramente bisogno. E la modalità con cui si possono fare queste scelte sono sostanzialmente di due tipi, scelte informate e scelte non informate. Le scelte informate sono quelle scelte appunto dove la tecnologia assessment ci aiuta a capire rispetto a quelli che sono i fabbisogni della nostra popolazione, dei nostri pazienti, cosa realmente è utile, sia da un punto di vista clinico di efficacia, ma anche a capire poi che cosa serve per erogare quelle prestazioni, perché non è sufficiente che un farmaco, un dispositivo funzioni bene, deve essere introdotto in un sistema che lo sa far funzionare, in particolar modo nel mondo dei dispositivi e anche della sanità digitale. Se io non ho un operatore che ha le competenze, se non ho un'organizzazione che è in grado di supportare l'utilizzo di quel dispositivo medico, io pagherò un dispositivo ma non avrò quei benefici di salute. Certo, certo. Però in Italia siamo al procinto di applicare un programma nazionale HTA, che novità possiamo anticipare? Allora, il programma nazionale è un programma nazionale che vede la luce dopo anni di gestazione. Ci sono delle novità importanti, è un programma nazionale che si basa fondamentalmente su tre pilastri. Il primo è quello più tradizionale, che è quello di valutare queste tecnologie che arrivano sul mercato, che sono innovative e cercare di capire effettivamente per i nostri pazienti, nel nostro contesto, che tipo di vantaggi possono produrre. Ma ci sono anche altri due pilastri importanti che sono il primo il tema del cambiamento culturale, nel senso che noi non possiamo immaginare di cambiare un sistema, di fare una migliore governance del sistema, se quelli che sono dentro il sistema non cambiano il loro approccio sul modo in cui scelgono le tecnologie e sul modo in cui le utilizzano. E quindi per questo il programma nazionale destina tante risorse a fare formazione e comunicazione, ma in maniera strutturale e in maniera continua. E questa è una cosa nuova, anche se io vedo l'esperienza degli altri paesi europei. E l'altra cosa importante del programma nazionale è che coinvolge in maniera sistemica tutto il processo, tutto il servizio sanitario. E quindi le regioni? A partire dal livello nazionale, dal livello centrale, le regioni per arrivare per il tramite delle regioni dentro le strutture del servizio sanitario nazionale. E quindi i clinici, coloro che fanno gli acquisti dentro le strutture, saranno toccati direttamente perché una delle azioni che è prevista dal programma nazionale, ad esempio la creazione e la messa a disposizione da parte di Agilas di un sistema di workflow delle richieste di acquisto dei dispositivi medici. Quindi questo vuol dire gestire le richieste di acquisto, capire le motivazioni. Poi è chiaro che noi non vogliamo portare diciamo ulteriore burocrazia all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale, per cui molte cose verranno gestite direttamente dentro le aziende. Altre cose che hanno un impatto più ampio a livello regionale arriveranno a livello regionale. E altre cose che invece necessitano diciamo di investimenti importanti che sono sovra regionali, penso alle prototerapie ad esempio, sono decisioni che devono essere prese diciamo a livello nazionale, ma sostanzialmente per fare una programmazione per capire effettivamente dove devono essere messe, quante ne servono, che tipo di finanziamento serve, perché il rischio è quello di fare dei salti in avanti, quindi magari di acquistare qualcosa che poi rimane inutilizzato. La storia è piena di nuove tecnologie con un tempo sopra, chiuse in una stanza. In una stanza. Questo direttore è il prologo a un'agenzia nazionale della HTA. Allora al momento il legislatore non ha pensato a una nuova agenzia, ha diciamo ampliato quelle che sono le competenze dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sostanzialmente in maniera complementare a quello che avviene nel farmaco. Sul farmaco c'è un'agenzia ad hoc, su tutto quello che non è farmaco probabilmente diciamo c'è un contesto diverso, nel senso prima parlavamo dei dispositivi dell'organizzazione, io non posso valutare il dispositivo senza valutare anche l'organizzazione e le professionistiche e le competenze che sono necessarie. E questo ovviamente lo può fare un'agenzia che ha una visibilità ampia, quindi che non ha il mandato solo di valutare la tecnologia singola, ma di valutare e di supportare anche le regioni. Quindi diciamo in questo nuovo concetto, accettione di HTA probabilmente diciamo non avrebbe diciamo in questo momento storico. Tra dieci anni poi ne riparleremo. Dico anche diciamo che questo si inquadra, adesso oggi siamo in un contesto di convegno dove si parla di sanità digitale nel ruolo che ha già da un anno a questa parte di Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale. Quindi noi sostanzialmente andremo a valutare dei dispositivi anche digitali, ma come Agenzia di Sanità Digitale, ad esempio potremmo proporre standard tecnici, proporre delle tariffe per la rimborsabilità di questi dispositivi. Bene, grazie direttore. Grazie a lei.